non fare agli altri quello che vorresti fosse fatto a te i loro gusti potrebbero essere diversi george bernard show in genere si parte dal famoso detto suggerimento non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te che però è molto delicato perché magari agli altri piacerebbe ricevere cose che tu non hai voglia comportamenti gesti interazioni che invece tu non desideri ricevere e questo è un altro problema ma nel nostro caso il punto è questo a te piace abbracciare la gente palpugnarla perché ti dà un senso di partecipazione ci sono persone a cui questo da un enorme fastidio che non desiderano il contatto fisico non con te o con me ma in generale di conseguenza se io vado gli abbraccio su tutti questi si dispiacciono non sto affatto facendogli un favore sto imponendo una mia posizione però viene facile ad alcuni sicuramente sarà venuto in mente anche a me di dire ma come io lo abbraccio con tanto calore e questo sembra che gli fa schifo beh certo gli sto facendo un dispetto sto facendo prevalere la mia scelta sulla sua cosa ne posso ricavare come suggerimento di comportamento è molto semplice cerca di tenere conto della posizione dell'altro quindi non è che siccome una cosa piace a me questa piace a tutti può darsi che alcuni non piace quindi devo cercare di capire un po che cosa in testa la gente soprattutto rispettarla accoglierla ma anche secondo i suoi parametri perché devo sempre ricordarmi come buona regola di non fare agli altri quello che vorresti fosse fatto a te perché i loro gusti potrebbero essere diversi e spesso lo sono